Nel 1827 Alessandro Manzoni pubblicò I Promessi Sposi, romanzo famosissimo. Nel 2019 Francesco Micichè porta sul grande schermo un film di cui oggi vorrò parlarvi dal titolo Compromessi Sposi. Compromessi Sposi è una commedia, una commedia proprio diretta dal grande Francesco Micichè, ma alla sceneggiatura non c'è solo lui. Nel team di sceneggiatura c'è anche la mitica Michela Andreozzi. Michela Andreozzi, il nostro Francesco Micichè, scrivono questo film, questa commedia molto bella, questa commedia molto bella che ho avuto il piacere di vedere al cinema con mio babbo che mi è piaciuta molto, che rispecchia proprio la commedia italiana che io tanto amo. Una commedia che si basa su cose magari già viste in altri film, perché in questo film ad esempio parliamo di due ragazzi, due adolescenti che si innamorano. Da una parte abbiamo ad esempio Riccardo e dall'altra parte abbiamo Ilenia. Riccardo è un ragazzo bergamasco del nord e Ilenia invece è una fashion blogger di Gaeta, romanaccia doc. I due si innamorano durante un'estate e decidono in una sola notte, seppur si conoscessero solamente da un mese, in questa estate del 2018, di sposarsi. E quindi il film diciamo si basa su questo. Se non fosse che magari quando i genitori andranno a conoscersi non scorrerà fra di loro quel buon sangue che potremmo immaginarci. Perché da una parte abbiamo Diego, Diego Abbatantuono, il grande enorme mitico Diego Abbatantuono, un mito della risata, un grande attore italiano. Abbiamo Diego Abbatantuono che è un imprenditore, un imprenditore del nord, costruisce hotel, costruisce grattacieli. Lui insieme alla sua famiglia porta avanti questa ditta da anni e anni ed è un gran lavoratore. Dall'altra parte invece abbiamo Gaetano, che è il padre di Ilenia, che è un sindaco, un sindaco per meglio dire il sindaco severissimo, fiscale, incorruttibile di Gaeta, padre di Ilenia. Cosa succede? Quando i due si incontrano andremo incontro a quel rapporto nord-sud che può portare a liti, a discussioni e che tanto ho amato in altri film. Voi lo saprete, io amo i cinepanettoni, ad esempio quante volte nei cinepanettoni vediamo i diverbi fra sud e nord, fra Roma e Milano, fra Napoli e Milano, insomma queste cose qua. Quindi questo film rispecchia proprio i canoni di una certa commedia che io amo, di una commedia che viene dall'antichità e che porta avanti questa storia in tutte le sue sfumature da anni e anni e anni. E nuovamente Francesco Mici che parla proprio di questo. E per di più questa storia va a intensificarsi quando praticamente i genitori ovviamente si troveranno ad affrontarsi per le future nozze che stanno per esserci proprio, le future nozze che si terranno proprio a Gaeta. E magari si scopre che Diego aveva già conosciuto il nostro Gaetano forse l'anno prima, forse tra di loro c'era già stata una minima discussione a colpi proprio di offese verbali. E poi forse scopriremo che il nostro Diego aveva deciso di acquistare un terreno a Gaeta dove costruire un grandissimo resort, un grandissimo hotel e magari proprio il nostro Gaetano aveva negato la possibilità a Diego di costruirlo non cedendogli diritti per poterlo fare, quindi non dando il consenso per poterlo fare. Quindi magari pian piano verranno fuori queste cose e sembra che fra i due non scorra buon sangue, che la vedano diversamente su tutto sembra, fino a che forse l'unica cosa che hanno in comune viene fuori. Forse su una cosa vanno davvero d'accordo, su un pensiero sono similissimi. Loro pensano e sostengono che far sposare i due figli sia la cosa più sbagliata possibile, ovviamente non vogliono imparentarsi fra di loro. E quindi perché i compromessi sposi? Perché questi sposini sono proprio compromessi, le loro nozze, sono compromesse. Anche se c'è una wedding planner eccezionale, severa, acida, che organizza tutto a puntino, magari i nostri genitori, in mezzo alle loro faide, si uniranno insieme proprio per cercare di mettere i bastoni fra le ruote a questi due sposini, a Riccardo e a Ilenia. Quindi questa è un po' la storia del film, di questo film, di questa commedia molto bella che si svolge a Gaeta. A Gaeta ovviamente avevamo visto anche il bellissimo il professor Cenerentolo del 2015 di Leonardo Pieraccioni e torniamo nuovamente a Gaeta. Siamo a Gaeta e bisogna dire che oltre ad un grande Diego Batantuono e ad un grande Vincenzo Salemme abbiamo anche un'elda Alvigni spettacolare, bravissima. Io lei l'ho sempre apprezzata sin dai tempi dei Cesaroni, quindi vederla sul grande schermo è veramente un piacere. Mi ha ricordato un po' la Jessica di Claudia Gerini, del film di Verdone, perché è veramente una romanaccia doc coatta, con questo linguaggio slang giovanile che adotta. Mi è piaciuta da morire, quindi una madre totalmente diversa dal padre, infatti due non stanno più insieme. Lei è separata, non sta più con Vincenzo Salemme, sono separati e lei lavora in una farmacia. Dall'altra parte invece poi abbiamo Rosita Celentano, grande Rosita Celentano, Rosita Celentano che è questa milanese doc che è proprio sposata con il nostro Diego e quindi è già bello di per sé vedere l'arrivo di queste due famiglie. Queste due famiglie quando si incontrano a Gaeta capiscono di essere diverse per quanto riguarda ogni cosa e lì nasce poi la commedia. Questo è un tipico film comico che si basano sulle differenze regionali, che si basano fra gli screzi fra nord e sud, un tema già visto in altri film. Io vi potrei citare mille film, da svariati cinepanettoni, gli ultimi film ad esempio con Boldi, da Matrimonio a Parigi, Matrimonio al Sud, insomma quante volte vari registi, vari sceneggiatori hanno portato sul grande schermo storie simili. La cosa bella, almeno per me, è vedere anche una stessa storia, uno stesso tema, trattato però in modo diverso, perché poi la stessa storia può avere varie sfumature, come in questo caso accade in Compromessi Sposi. Il grande Francesco Micichè ci regala una commedia deliziosa, una commedia che non ha troppe pretese e che in quell'ore 35 sa divertire, specialmente nel primo tempo che ho amato, c'è una grande comicità battutara, una comicità proprio di battuta piuttosto che di situazione, mentre nel secondo tempo abbiamo una comicità più di situazione e meno di battuta. Ma questo ovviamente rende il film anche versatile, rende anche il film molto piacevole e poi abbiamo due fuoriclasse della risata, Vincenzo Salemme e Diego Abbatantuono. Quando c'è la loro sfida a chi si offende di più è veramente divertentissimo, in certe scene ridevo proprio di gusto, ridevo proprio a crepapelli, ovviamente non vi spoilero niente. È un film che magari da tanti può essere considerato, vabbè, già visto, quante volte si è vista, la ragazza del nord, la ragazza, scusate, con i genitori del sud che si innamora, genitori che poi Vincenzo Salemme del sud, invece la madre è Romana Doc, che si innamora del ragazzino del nord e poi nascono i problemi. Ok, può sembrare una trama già vista, ma vi assicuro che il film saprà regalarvi delle sorprese andando ad omaggiare anche un film, o per meglio dire un film musicale che io ho amato, non voglio dirvi di più, però sul finale c'è un grande omaggio ad un musical, ad un film di cui non voglio parlarvi, ne parlerò nella parte spoiler perché non me l'aspettavo e mi ha fatto piacere, ma per di più poi il film proprio cattura, appassiona, intrattiene, è quella classica commedia leggera che sa far divertire lo spettatore, lo sa far stare bene e più che altro regala risate e non c'è niente di più bello. Per me ne parlavo anche nella recensione dell'Agenzia dei Buvardi, è tanto bello andare in sala, divertirsi e uscire dalla sala spensierati e con la voglia proprio di continuare ad avere dentro di sé quella spensieratezza e quella gioia che il film ha trasmesso. Per me non c'è niente di più bello. In questo film abbiamo anche la mitica Valeria Bilello, attrice che nel film interpreta la sorella del figlio di Abba Tantuono, quindi del promesso sposo. Abbiamo Valeria Bilello e poi ho qua con me il computer, vediamo per ricordarsi tutti i nomi del cast, abbiamo Susie Laude, la wedding planner acidissima che sta preparando tutto il matrimonio e poi abbiamo un grande Dino a Brescia, è sempre un piacere rivederlo, cugino di Elda Alvini nella storia. E che dire, è un film che sa divertire parecchio, è un film che ovviamente mi fa nuovamente, scusate il gioco di parole, ribadire quanto io ami questo determinato tipo di commedia, cioè la commedia italiana io ci sguazzerei dentro, ci sguazzerei l'Agenzia dei Buvardi, Compromessi Sposi, sono in uscita adesso tanti altri film che non vedo l'ora di vedere, Dieci Giorni Senza Mamma, Modalità Aereo, mamma mia, bene, poi Abba Tantuono per me è un mostro sacro, un grande attore capace di interpretare sia ruoli drammatici sia ruoli comici, Vincenzo Salemme e Idem, grande Vincenzo Salemme, il nord contro il sud, poi devo dirvi che Francesco Miciche è tornato sul grande schermo a distanza di pochi mesi, nella recensione dell'Agenzia dei Buvardi dicevo, cavolo Wolfango De Biasi a ottobre è uscito in sala con Nessuno Come Noi e solamente a gennaio 2019 è tornato con l'Agenzia dei Buvardi, pensate che anche Francesco Miciche è uscito con il suo precedente film in sala a settembre, quindi un mese prima di Nessuno Come Noi ed è già tornato col nuovo film a gennaio. Io purtroppo il film precedente, Ricchi di fantasia con Castellitto, non riuscì a vederlo in sala purtroppo e ancora devo recuperarlo, quello era scritto da Miciche e Bonifacci, coppia storica che aveva diretto anche il meraviglioso Loro Chi, stavolta invece Bonifacci si è occupato invece proprio della sceneggiatura dell'Agenzia dei Buvardi in coppia con Wolfango De Biasi. Per me Loro Chi è una meraviglia, Loro Chi è uno dei migliori film di genere commedia degli ultimi anni, veramente una cosa eccezionale, mi piacque da morire, sorprendente, un action comedy che ho amato alla follia con un grande Edoardo Leo ed un grande Marco Vallini. Se non l'avete visto guardatela assolutamente. Quindi questo possiamo dire che è il terzo film, perché se non erro Miciche prima aveva diretto un cortometraggio, questo è il terzo film di Miciche e per me è un film leggero, un film veramente spassoso, da vedere, rivedere ed è un film che lascia con una leggerezza assoluta e che fa stare veramente bene. Quanto è bello questo cinema italiano più leggero che io tanto amo. Ovviamente voglio dirvi che in questo film ha un piccolissimo, ma molto bello, ha un piccolissimo ruolo il mio caro amico Livio Cone, un mio amico che studia recitazione con me in Accademia a Milano e ha un piccolissimo ruolo, è un ragazzo di colore che sicuramente vedrete perché ha proprio la fortuna di essere anche nel trailer, perché nel trailer vi è la sua scena, io sono di Saronno, quel ragazzo lì, è proprio Livio Cone, un mio carissimo amico, l'avevo detto che l'avrei salutato nella recensione, sono felicissimo che Livio dopo la piccola esperienza in un altro bellissimo film dell'Archi Bugi che era Gli Sdraiati, dove interpretavo un infermiere, sia nuovamente arrivato sul grande schermo a recitare con Diego Abbattantoone in Compromessi Sposi, grande Livione numero uno. E che dirvi, per quanto riguarda la parte generale non mi sembra ci sia molto altro da dire. È ovviamente un film che porta avanti una trama, ok, già vista in altri film, ma magari con sfumature diverse rispetto agli altri film, dove magari negli altri film andava in un modo, qua magari va in un modo diverso, magari va allo stesso modo ma il tutto è raccontato in maniera differente, chi lo sa io non voglio dirvelo. Vi posso solo dire che è un film citazionistico per un certo aspetto, perché ripeto cita un film, un musical molto importante, è un film che vi saprà far divertire ed è un film che senza troppe pretese ha un'unica pretesa, quella di voler far star bene lo spettatore e per me ci riesce alla grande. Non è un qualcosa di meraviglioso, ma è un film che a me ha divertito, anzi io che nella vita voglio fare questo mestiere sarei felicissimo di partecipare ad un film come questo, perché questi sono i film che a me fanno star meglio nella vita, quindi se a me fanno star meglio io amo far star meglio il prossimo, quindi sarebbe un onore. Ma bando alle cianci, adesso passo alla parte spoiler, non prima di ricordarvi di lasciare un like a questo video, se vi è piaciuto di dirmi la vostra nei commenti, vi ricordo che ho pubblicato anche un video in onore del Nido del Cuculo, un video con doppiaggi tutti creati da me per omaggiare l'associazione Il Nido del Cuculo che mi ha cresciuto, fondata da Paolino Ruffini, il mio idolo assoluto. Quindi andatela a vedere, andatela a vedere, anzi ringrazio, rivoliamo Massimo Boldi, Cristian De Sica e Denzo Salvi insieme che l'ha condivisa sulla sua pagina, sulla sua bellissima pagina che vi invito ad andare a vedere, come vi invito ad andare a vedere anche la pagina Facebook Avanti Cinema e TV e il sito internet Avanti Cinema e TV che collabora con me e condivide ogni mia recensione. Andate a vedere, ovviamente lasciate like e se vorrete potrete lasciare like anche alla mia pagina ufficiale Facebook Paolo Innocenti e se proprio mi volete bene seguitemi anche su Instagram sul mio profilo Paolo Innocenti Official. Ora lo so, magari vi ho chiesto troppo, se non vi va di fare tutto questo, se avete visto il film almeno seguitemi nella parte spoiler dopo aver cliccato mi piace a questo video. Ragazzi io vi saluto, mi raccomando chiudete questo video se non avete visto il cinema perché se non avete visto il cinema, se non avete visto il film perché ve l'andresti a rovinare. Quindi andate a vedervi il film in sala, sostenetelo, al box office purtroppo non è andato benissimo come apertura, però spero si riprenda nei prossimi giorni. Fatemi sapere anche la vostra, io ora passo alla parte spoiler! Per quanto riguarda la parte spoiler, ragazzi, beh, intanto non ho detto che nel film c'è anche un grande Sergio Friscia, mi è passato di mente nella parte generale, scusatemi, un grande Sergio Friscia che, pensate, torna a Gaeta proprio dopo aver girato a Gaeta nel 2015 il professor Cenerentolo, era uno dei detenuti, vi ricordi? Lazzo, lazzo, calcio del mulo, faccio, manda a fanculo, vi ricordate, no? Era uno dei detenuti del carcere insieme anche al mio amico, Niki Giustini, che purtroppo non c'è più, mio grande amico Niki, e ovviamente ci ripenso, il film è ambientato a Gaeta e a Niki ci ho ripensato. E detto questo però, il film mi è piaciuto perché seppur io questa storia l'avessi vista in numerosi altri film, specialmente di Boldi, ma proprio anche di Boldi con Salemme, di Boldi con Izzo e così via, c'è sempre questa rivalità, vari registi, vari sceneggiatori, da Vanzina a Paolo Costella, a Risi l'hanno portata sul grande schermo. Seppur la trama l'avessi già conosciuta e vista in altri film, mi ha sorpreso lo stesso, perché comunque il nostro Abba Tantuono, nei panni di questo imprenditore, dedito al lavoro, ma simpaticissimo, e di questo invece sindaco, severo, di questo sindaco fiscalissimo, che non permette neanche alla madre di creargli mercatini di Natale, perché ovviamente tutto deve essere fatto in base alla legge, tutto non può essere fatto se non con dovizia e massima puntualità. Quindi è uno molto attento, che controlla qualsiasi cosa, ogni attracco delle barche nel porto, che chiama l'ispettore della sanità per andare a controllare, il mitico Pedro della coppia, Pablo e Pedro, che lo chiama per andare a controllare e quindi poi facendo chiudere da bar, tra cui il bar di sua nonna, qualsiasi posto. è uno proprio attentissimo a tutto e sin dall'inizio scopriamo che il nostro Diego Abba Tantuono porta avanti il suo lavoro con grandovizia e scopriamo che ha una figlia, che è la sorella proprio dello sposino, ha una figlia e lui vorrebbe lasciare la ditta in mano al figlio, una volta che lui non sarà più il capo. E scopriamo che questa figlia ha preso molto da lui, ha preso tutte le ambizioni, come dirà la madre, ma non ha molto cuore nelle cose. È una ragazza molto severa, sia con se stessa, sia con gli altri, una ragazza quasi scorbutica, molto fredda e così via. E scopriamo che proprio innanzitutto che i genitori sono stati gli ultimi a saperlo che i figli si sarebbero sposati, sia Vincenzo Salem sia Diego Abba Tantuono lo vengono a sapere da ultimo, idem le loro mogli. Ma per di più scopriamo che Diego Abba Tantuono, Diego proprio, aveva chiesto, cioè aveva chiesto comunque con la figlia e così via, di costruire questo grande hotel a Gaeta e proprio il nostro Vincenzo Salem e il sindaco aveva rifiutato. Cosa però che non sanno lì per lì quando si conoscono, cioè ovviamente i due si erano incontrati nell'estate 2017 durante la pesca del tonno e Salem criticava il fatto che Babba Tantuono avesse pescato un pesce che era illegale da pescare per le dimensioni e così via, mentre Salem li prendeva e li ributtava in acqua. Quindi già lì avevano litigato. Quando si rincontrano continuano a discutere e c'è quello scambio di battute fra i due che è geniale, veramente mi ha fatto troppo ridere, mamma mia, cioè è proprio uno scambio di battute ma dette così con nonchalance, con tranquillità che mi hanno fatto morire, cioè bravi, cioè la naturalezza di Salem, la naturalezza di Abba Tantuono mi hanno fatto divertire tantissimo, proprio una comicità di battuta che mi ha fatto ridere proprio di gusto. Però ancora non sanno di essersi trovati davanti proprio coloro che avevano potuto avere, magari avrebbero potuto avere anche un sodalizio lavorativo se Salem non avesse rifiutato il tutto. Ed è bellissima la scena in cui al tavolo Abba Tantuono proprio dice qui avrei dovuto costruire se non fosse per uno stronzo di sindaco un coglione e lì c'è quella scena bellissima in cui arriva il cameriere, tenga sindaco e Abba Tantuono fa quello sguardo, Bill mamma mia, mi è piaciuto da morire. E poi lì diamo il via al secondo tempo del film in cui i nostri sposi, i nostri sposi continueranno ad amarsi e così via, i nostri futuri sposi. I genitori, per genitori intendo i due padri, mentre le madri tentano di conoscersi, mi è piaciuto tantissimo nel Dalvigni, mi è piaciuta tantissimo Rosita Celentano, Rosita Celentano che parla del passato della figlia. Intanto i padri decidono, non insieme inizialmente, di metter su una sceneggiata per far sì che il matrimonio vada a rotoli, perché da una parte abbiamo Diego Abba Tantuono che chiama Dino a Brescia pagandolo per portare delle escort, delle escort, Abba Tantuono aiutato dalla figlia, sullo yacht dove avrebbe passato la sera il figlio per la festa dell'addio al celibato, così che almeno poi sua figlia sarebbe arrivata, cioè la figlia di Salemme sarebbe arrivata allo yacht e avrebbe visto il figlio di Abba Tantuono con le escort. Infatti Abba Tantuono poi telefonano, adesso fai il possibile per far venire Ilenia allo yacht. Allo stesso tempo però Dino a Brescia è contattato anche da Salemme, perché è bellissimo, perché allo stesso tempo Salemme prende primo, il primo proprio fidanzato di Ilenia, lo veste tutto bellissimo alla tonima nero e lo manda alla festa, alla festa di Ilenia per far sì che ci provi con lei e nel frattempo chiama Dino a Brescia per dirgli ora manda Ilenia, ora manda, scusa, manda il nostro sposino alla festa di Ilenia, così vede questo. Insomma sia Abba Tantuono sia Salemme hanno la stessa idea. Alla fine una delle due idee va in porto, perché arriverà dopo aver rifiutato primo Ilenia, ma primo si consolerà con la sua amica, arriverà Ilenia allo yacht e vede in atteggiamenti un po' intimi, stavano ballando stretti stretti, vede proprio il suo amato che balla stringendosi forte a questa ragazza che poi scopriremo essere la figlia di Petro, dell'ispettore di Genedi, che ovviamente viene inizialmente contattato da Abba Tantuono anche per ispezionare il luogo dove avrebbe preso il via il matrimonio, il luogo che avrebbe incorniciato il matrimonio, ma trova solo una blatta. E quindi c'è questa situazione, il ragazzo disperato che rincorre Ilenia che scappa e va a rifugarsi dalla nonna. Nel frattempo però i due padri forse avevano strinto amicizia. Lì per lì non un'amicizia da dire però peccato che ci separiamo, che i due non si sposino, no, però comunque erano riusciti a trovare una simpatia l'un nell'altro. Fino a che poi le mogli, che allo stesso tempo erano al tavolino a parlare, hanno pensato, parlando anche del loro passato, ma non è che questi due si sono messi insieme perché lei è incinta e quindi sarà così, non sarà così. In un modo o nell'altro loro avvertono i mariti, arriva un messaggino ai mariti e quando arriva il messaggino allora i mariti dicono cavolo qua le nozze e si devono fare. Per di più quando poi vedono il dolore dei figli una volta che si sono separati capiscono ancora di più che le nozze sarebbero importanti e quindi la bellezza poi del film nella sua semplicità è che fa capire ai nostri protagonisti i loro sbagli, i nostri sbagli, i loro sbagli vengono proprio recepiti dai protagonisti per colpa quasi delle loro azioni. Loro ce l'hanno fatta a dividere i due figli, adesso una è a piangere dalla nonna e l'altro è disperato che la sta cercando, quindi capiscono i propri sbagli e poi si arriva a quella scena al commissariato dove Frisch ha detto io spero che lei non abbia mai bisogno di me perché ovviamente tutti chiedono favori a Salem e Salem li rifiuta tutti, addirittura voleva mettere il nuovo comando dei carabinieri in un circo e che era stato sequestrato dai carabinieri. Quindi si ritrovano tutti in caserma anche perché per poi raggiungere lo yacht i nostri Salem e Abbatantone avevano rubato, preso in prestito, un trenino di quelli che fanno le gite turistiche per la città. Quanto è bella l'inquadratura con la ruota e il gorillone King Kong tutto brillantinoso. Quindi Gaeta, Gaeta che fa da sfondo bellissima anche se l'ho preferita come è stata ripresa nel Professor Cenerentolo, ma a parte questo il tutto poi va a finire in un modo prevedibilmente imprevedibile perché tutto è bene quel che finisce bene, dopo la notte in commissariato c'è la spiegazione e poi si arriva a fare questo matrimonio e proprio è bellissimo vedere come tutti siano cambiati. È cambiata la figlia di Abbatantone che da quando ha ascoltato sua madre dire certe cose e dopo che ha visto il suo fratellino star male ha capito quanto sia stata stronza, capisce che deve trovare un po' di cuore e anche che deve manifestare le sue emozioni, infatti poi ammetterà la sua omosessualità e devo fare complimenti veramente all'attrice che interpreta Valeria Bilello, devo fare i complimenti a Valeria Bilello perché ha interpretato il suo ruolo in maniera eccezionale. Io che lei fosse omosessuale l'ho capito quando ad un certo punto Abbatantone dice ma con tutte le ragazze che poteva scegliere ha scelto proprio una di Gaeta, quella lì che è una figa e parla di una figa e Valeria e la figlia risponde eh sì, eh sì. Quindi io da lì ho percepito e poi recita talmente bene che proprio fa capire, fa percepire di amare il sesso femminile ed è una cosa che ho apprezzato molto perché lì vediamo la bravura di un'attrice che si vede che tiene nascosto qualcosa per poi alla fine riuscire a liberarsi e questa cosa segna il suo cambiamento. Come vediamo il cambiamento di Abbatantone che ha capito tutti i suoi sbagli e chiede scusa sia al figlio sia alla figlia. Il figlio è un aspirante musicista eppure lui voleva che prendesse in mano la ditta perché non la voleva lasciare alla figlia essendo donna, no? Tutti stereotipi e così via. E invece cambia, cambia il pensiero anche di Abbatantone che è pronto ad accettare anche l'omosessualità della figlia. È bello il finale di questo film, mi è piaciuto veramente tanto, come allo stesso tempo vediamo anche Salemme che si scusa, si scusa e magari comincerà anche ad aiutare quelle persone che fino ad allora gli avevano chiesto favori però senza ricevere niente in cambio. Mi è piaciuto. E perché dico prevedibilmente prevedibile? Perché sì, prevedibilmente imprevedibile, perché sì è prevedibile che tutto è bene quel che finisca bene, si scopre addirittura che non era vero che la ragazza fosse incinta e quindi i mariti fanno ci avete truffato, ci avete truffato, però alla fine anche se è stata una tra virgolette truffa, alla fine i genitori erano veramente felici, compresi i padri, che i due si sposassero. Quindi è ovviamente una lotta che poi termina con la pace. E perché dico che è un fincitazionistico sul finale? Perché il finale è un grande omaggio a Mamma Mia, film e musical. Perché i due ragazzi, capendo di essere giovani, capiscono di poter vivere insieme, amandosi, mille avventure che per sposarsi c'è tempo e quindi scappano via in motoscafo in questa scena bellissima promettendo un futuro matrimonio che sicuramente potrebbe esserci. Io lì ho pensato se arriveranno ad omaggiare, se sono arrivati ad omaggiare Mamma Mia, sicuramente adesso si risposeranno Salemme e il Dalvini che comunque si erano lasciati. Sarebbe stato bello, invece no. Anche se si era comunque visto un rapporto di stima reciproca fra i due in tutto il film, non si risposano. Quindi c'è un mezzo omaggio a Mamma Mia che comunque ho apprezzato. Ho cominciato a sospettare che potessero omaggiare Mamma Mia quando proprio la figlia la prima volta presenta la madre e dice lei è Mamma Mia, Mamma Mia, cioè fa la battuta e ha detto stai a vedere che sul finale, però non è scontato. Quindi è una trama sì prevedibile ma prevedibilmente imprevedibile. Ma poi anche se si fossero sposati i ragazzi e fosse finita a terra luce e vini mi sarebbe piaciuto lo stesso il film. Un film molto bello, spassoso, divertente. Forse la comicità di situazione del secondo tempo mi è piaciuta meno della comicità di battuta del primo ma è il finale bellissimo. Un film a cui do un bel sette e mezzo molto bello. Grande Francesco Micicchè è lontano dalle meraviglie di Loro Chi che quello era un film veramente incredibile però sicuramente ha dimostrato di sapersi destreggiare in più tipi di commedie. Poi vedrò anche Ricchi di Fantasia e spero presto però possa sfornarci un altro filmone come Loro Chi. Detto questo ragazzi grazie per avermi seguito, un caro saluto e noi ci vediamo alla prossima recensione. Grazie a tutti.